Sono orgogliosi di avere oggi qui a Sanremo, in questa incantevole villa storica, questa prima esposizione italiana del Nobel Donne per la Pace. Siamo non solo contenti ma anche orgogliosi per tutto quello che rappresenta anche il mondo femminile oggi. Inizia una settimana molto importante anche per Sanremo, che si innesta in un periodo molto importante che è quello delle festività natalizie. La Nobel Week porterà tantissima gente, una sinergia con Stoccolma. Per la prima volta, tra l'altro, Sanremo diventa capofila alla cerimonia a Stoccolma stessa, con appunto la rappresentatività dei suoi fiori. Siamo orgogliosi anche di questo. Niente, non vedo l'ora di inaugurare insieme a chi deve avere questa esposizione e colgo l'occasione per tutti quelli che avranno il piacere di venirla a vedere, e vedere anche questa splendida villa e Sanremo, se possibile, in tutta la sua magnificenza.